come proteggerti ed evitare di essere denonimizzato sii consapevole di quanti informazioni riveli su te stesso non riutilizzare mai i tuoi indirizzi utilizzator cripta la tua navigazione chat email backup eccetera utilizza portafogli separati per ogni identità ed offusca i trasferimenti tra identità la prima regola essere consapevoli ciò che si sta facendo e di ciò che si sta rivelando agli altri prova per un secondo a mettere in discussione le tue azioni stai utilizzando una vpn cosa hai fatto in precedenza con questo indirizzi p quali e quanti schede hai attualmente aperte nel tuo browser quale wallet bitcoin stai usando da dove provengono i soldi in quel portafoglio e cosa hai acquistato in precedenza con esso con chi hai comunicato recentemente in merito ciò che stai per fare tale informazioni sono state criptografate tutte queste informazioni sono importanti se vuoi proteggerti ci sono molte piccole cose che rivelano un po di te online ti spiegherò come proteggerti al meglio ed evitare che i tuoi metadati vaghi in giro per il mondo sii sempre vigile e sii sempre consapevole su quali dati ha inviato a chi e di pensare a come potrebbero essere utilizzati per identificarti presta attenzione anche alla tua sfera offline il tuo obiettivo deve essere quello di non rivelare informazioni sui tuoi fondi cripto finanziari a nessuno tra le altre cose evita di partecipare a raduni o venti pubblici riguardanti bitcoin blockchain o criptovalute in generale governi d'agenzia ingaggiano agenti sotto copertura per parteciparvi e raccogliere informazioni sensibili inoltre possono installare strumenti di controllo come microfoni o telecamere oltre alla possibilità di accedere ai sistemi di sorveglianza già installati evita a priori di parlare pubblicamente delle tue criptovalute se non con interlocutori che li tieni davvero affidabili governi ed agenzie ti tengono già sotto controllo non dagli motivo di aumentare i sospetti su di te non accettare mai di usare nessun dispositivo elettronico come smartphone tablet e computer se non si tratta di un dispositivo che ti sei procurato personalmente privilegi i portafogli bitcoin che rispettano la tua privacy senza mai utilizzare gli indirizzi i portafogli hd hierarchical deterministic generano un numero teoricamente infinito di indirizzi da un singolo seed i portafogli hd facilitano l'uso di un nuovo indirizzo per ogni transazione e forniscono anche un meccanismo di backup sicuro il mio personale consiglio ricade su wasabi wallet presta attenzione ai servizi in cui puoi indicare un unico indirizzo bitcoin per richiedere un prelievo cambia manualmente il tuo indirizzo bitcoin dopo ogni prelievo su un indirizzo non precedentemente utilizzato incoraggia gli altri a cambiare i loro indirizzi dopo ogni utilizzo poiché le loro pratiche influenzeranno la tua privacy mentre interagisci con loro utilizzator per mantenere il tuo anonimato utilizza il browser tor o il sistema operativo tales quando ti avvalidi servizi che necessitano alti standard di sicurezza e privacy cerca di installare tutto tramite tor di default configura i tuoi portafogli per connettersi alla rete bitcoin tramite la rete tor è possibile far ciò installando tor browser e configurando il proxy in preferenze avanzate rete impostazioni mantiene l'impostazione predefinita di sox v5 a 127.0.0.1 sulla porta 9050 inserisci questi valori nelle impostazioni di connessione del tuo wallet bitcoin in ogni caso ti ricordo che ci sono tutte le guide tecniche relative a fine corso ottenere un accesso anonimo ad internet senza violare la legge non è troppo complicato se si a conoscenza di alcuni metodi alcuni modi per raggiungere un ulteriore grado di riservatezza le tue connessioni includono l'utilizzo di wifi pubbliche e gratuite di bar ristoranti e centri commerciali spesso queste non fanno richieste di documenti per garantirne l'accesso l'utilizzo di hotspot wireless all'interno delle città che offrono connettività di internet wireless gratuitamente spesso però queste richiedono la ricezione di un sms con un codice da utilizzare per accedere al servizio utilizzando un sito come www.receive-sms-online.info potrai utilizzare un numero di telefono a te non intestato per ricevere l'sms esistono inoltre servizi online che permettono di ottenere un numero di telefono virtuale come www.virtualfont.com o www.getfree-sms-number.com altri hotspot talvolta richiedono invece l'invio di un sms con un codice quindi sarà sufficiente utilizzare un sito web per l'invio di sms gratuito per ottenere l'accesso alla linea l'utilizzo di una sim card anonima e legale con connettività internet attraverso il provider o2 www.o2.coop.uk oppure www.gifgaf.com ricorda sempre di accedere a wifi pubbliche tramite una vpn se sei insicuro sulla validità di una rete pubblica evitala a prescindere tutto ciò che è descritto in questo documento non ha praticamente valenza se fai l'utilizzo di un sistema operativo chiuso come windows ios e mac os per le tue operazioni cripto finanziarie è risaputo che tali sistemi raccolgono e condividono dati in tempo reale di ogni natura privilegia sistemi open source come debian linux mint tails o android insomma tutti i sistemi new linux vanno bene per chi volesse comunque continuare ad utilizzare windows come sistema operativo primario esiste l'interessante tool chiamato win privacy che ti permette di disabilitare tutte quelle opzioni e funzionalità pubbliche nascoste di windows che mettono a repentaglio dato privacy a prescindere da quale device utilizzi per accedere ad internet assicurati di non utilizzare un nome utente chiamato anche hostname riconoscibile se possibile affidati a qualche script di hostname anonymization o spoofing effettua il max spoofing dei tuoi dispositivi alcuni device lo fanno automaticamente altri no ti consigliamo quindi di informarti circa la presenza o meno di tale funzionalità nel tuo device cancella le reti che utilizzi dalla lista delle tue connessioni salvate infatti ogni volta che il tuo device effettuerà una scansione per trovare delle wifi vicine comunicherà a tutte quali in ascolto il numero e il nome delle tue connessioni salvate questa funzione è molto utile per collegarsi automaticamente reti conosciute ma espone a seri problemi di privacy ricorda di crittografare la tua anima reazione chat email backup eccetera mi raccomando naviga in sicurezza con il tuo browser crittografa le tue chat rendi private le tue mail e proteggi crittografa tutti i tuoi backup utilizza sempre https mentre naviga i suoi siti web preferiti contenenti qualsiasi informazione relativa alla tua identità o alle tue transazioni bitcoin questo semplice protocollo viene utilizzato per crittografare il traffico tra il sito che stai visualizzando e di tuo computer l'icona di un lucchetto verde nella barra degli indirizzi del browser indica che il sito web attuale utilizza https https è ormai diventato uno standard per i siti web puoi comunque decidere di installare l'estensione https everywhere per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza un altro modo per proteggere la tua navigazione e attraverso una virtual private network quando si utilizza una vpn sei in grado di nascondere il proprio indirizzo ip ai siti con cui si interagisce presta però molta attenzione quando scegli un provider vpn legge attentamente le loro politiche sulla privacy in particolare per quanto riguarda le informazioni che registrano il mio personale consiglio ricade in ordine di rapporto costo qualità in mulvad expressvpn e nordvpn utilizza brave come browser principale quotidiano brave è un browser gratuito e open source basato su chromium ideato dal creatore di javascript e co-founder di mozilla brandon ache tra le varie funzionalità il browser blocca automaticamente pubblicità tracker cookies di terze parti e raccolta fingerprint dai siti web che visiti inoltre utilizza https di default e di integrator all'interno delle schede private per essere sicuro di visitare i tuoi cripto siti web preferiti installa kryptonite un'estensione gratuita ed open source che garantisce che i siti web che visiti siano effettivamente quelli originali e non delle copie malevole ti sconsiglio caldamente di utilizzare dns di default del tuo internet service provider evita inoltre quelli di google ovvero 888 e 8844 opta invece per 1.1.1.1.1 e 1.0.0.1 ovvero il servizio dns creato da cloudflare e apnic che è strettamente privacy oriented nel documento testuale di questo corso troverai tutti i link che sto menzionando e tutte le informazioni su come implementarli per una massima protezione crea almeno un account jabber noto anche come xmpp per ciascuna delle tue identità online ci sono molti servizi gratuiti disponibili tra cui scegliere iscriviti attraverso tor e in strada tutte le tue chat attraverso la rete tor utilizzando il proxy socks 5 incorporato per una maggiore sicurezza per garantire che le tue chat non vengano intercettate e lette da nessuno al di fuori del destinatario previsto utilizza otr ovvero un protocollo di crotografia affidabile tieni presente che puoi utilizzare otr solamente se anche la persona con cui stai comunicando lo sta utilizzando di tutti i servizi online le mail è probabilmente quello più vulnerabile allo snooping e all hacking mentre un buon provider di posta elettronica renderà molto difficile agli hacker accedere alle tue informazioni lo stesso potrebbe comunque consegnare volontariamente i tuoi dati a governi e altri enti se richiesto sfortunatamente per le persone che cercano una maggiore privacy diversi provider di posta elettronica rendono difficile sono impossibile l'accesso alla tua mail tramite tor alcune addirittura richiedono di collegare e verificare il tuo indirizzo email a un'identità tramite un numero di telefono usa pgp per crotografare le tue mail anche se come nel caso d'otr sarà in grado di comunicare in modo sicuro solo con le persone che lo utilizzano allo stesso tempo se sei estremamente preoccupato per l'auto privacy evita semplicemente di comunicare via mail le modalità con cui esegui il backup dei tuoi bitcoin dipende dal software che stai utilizzando i wallet hd ti offrono una serie di parole casuali il seed che possono essere utilizzate per rigenerare il tuo portafoglio ovunque e in qualsiasi momento tutto ciò che devi fare è copiare e scrivere quelle stesse parole e tenerle in un posto sicuro presta però molta attenzione il seed è molto utile ma permette a malintenzionati di a tutto il patrimonio in bitcoin semplicemente entrando in possesso della serie di parole sconsiglio caldamente di archiviare il seed su un qualsiasi dispositivo elettronico perché vulnerabile e facilmente attaccabile ma in assenza di uno spazio fisico sicuro potrebbe essere inevitabile il modo più semplice per crittografare e mettere in sicurezza le parole casuali generate dal tuo portafoglio hd o qualsiasi altro testo password che bisogna rendere sicuri è tramite pretty good privacy utilizzare pgp però comporta un ulteriore backup di pgp stesso crittografando la tua chiave di pgp con una buona password potrai accedere a tutti i tuoi file attraverso quell'unica parola o serie di parole ti consiglio di controllare le guide tecniche in fondo al corso per scoprire come creare una password sicura ricapitolando utilizzo una password per crittografare la chiave pgp quindi esegui il backup di tutti gli altri file crittografandoli con la chiave pgp crittografata ti sei mai accorto che negli ultimi anni stanno scomparendo le prese elettriche di ricarica per dar spazio alle prese usb quante volte ti sei collegato ad una presa pubblica come quelle presenti nelle grandi catenelle negozi negli aerei nei treni o nei centri delle città ecco d'ora in poi evita di far ciò perché il rischio di collegarsi ad una stazione di ricarica spia o contenente malware è estremamente alto un data blocker previene lo scambio occidentale di dati quando un device come un computer tablet o smartphone è collegato ad un altro computer o ad una stazione di ricarica pubblica lo scopo di un data blocker chiamato anche usb condom è quello di bloccare lo scambio di dati su qualsiasi cavo usb consentendo il solo passaggio di corrente ciò minimizza il rischio di furto di dati sensibili aumentando contemporaneamente la sicurezza privacy di qualsiasi dispositivo collegato gli attacchi via usb maggiormente conosciuti comprendono il juice jacking il wire locker malware contro gli smartphone e il bad usb threats contro smartphone e computer i data blocker che consiglio sono il tesis data blocker che è disponibile su amazon il singstop che è disponibile sullo shop originale di singstop ed edec che è disponibile nello shop originale di edec digital forensics la privacy parte da dispositivi che utilizziamo per effettuare transazioni per evitare che una transazione e wallet venga collegata ad un'identità è bene far uso delle famose webcam cover ovvero una serie di oggetti pensati per oscurare le webcam dei notebook e le camere presenti in smartphone e tablet questo permette nel caso che un nostro particolare device sia spiato di aggiungere un ulteriore livello di privacy password sicura e crittografia contribuiscono a mantenere privati i tuoi dati allo stesso tempo i filtri per webcam ci mettono al riparo da possibili spi online ma tali strumenti non possono impedire a qualcuno di fare una cosa così semplice come scrutare lo schermo da dietro le spalle o peggio di scattare una foto del nostro schermo e su ciò su cui stiamo lavorando si chiama visual hacking ed è una seria minaccia alla sicurezza che aziende e privati non dovrebbero assolutamente ignorare per fortuna c'è una soluzione economica e semplice i privacy filters i filtri per la privacy aderiscono allo schermo di un laptop e limitano notevolmente l'angolo di visione in modo che solo la persona seduta da direttamente davanti allo schermo possa vedere ciò che è proiettato chiunque cerchi di dare una sbirciatina ai lati o in alto vedrà solo uno schermo nero i filtri per la privacy sfruttano una tecnologia estremamente semplice sono costituiti da un foglio di plastica polarizzato la polarizzazione funziona come un filtro ottico che blocca la luce da determinati angoli in questo caso tutti gli angoli tranne quello davanti allo schermo è la stessa tecnologia utilizzata per gli occhiali da sole polarizzati ed alcuni tipi di obiettivi per le fotocamere in questo caso ti consiglio di cercare su amazon quello dato alla grandezza del tuo schermo preferendo i filtri della 3N è estremamente facile utilizzare un wallet bitcoin diverso per ciascuna delle tue identità online potresti avere un portafoglio per ogni esigenza ad esempio potresti utilizzare un portafoglio per le donazioni un portafoglio per la tua vera identità un portafoglio per le entrate della tua pubblicità e un portafoglio per i tuoi risparmi non è necessario scaricare software separati per ciascuna identità tutto quello che devi fare è tenere separati i file del wallet in particolare quei file che contengono le tue chiavi private e pubbliche assicurati solo di non confondere i file tra di loro e di non mescolarne fondi ogni volta che avrai bisogno di spostare fondi tra le tue identità dovrai cercare di nascondere il percorso effettuato per rendere difficile per chiunque collegare le tue identità tra di loro quando si pensa al sistema finanziario tradizionale le parole offuscamento, tumblr o mixing sembrano attività per criminali a causa della natura trasparente di bitcoin le transazioni commerciali potrebbero richiedere una qualche forma di offuscamento per proteggere i segreti e le pratiche commerciali un bonifico bancario da una persona a un normale conto non dovrebbe essere rilevato a terze parti non coinvolte né il cliente o i concorrenti dovrebbero scoprire come vengono utilizzate le entrate senza offuscare le transazioni riveliamo inevitabilmente molto di più di quanto dovremmo quindi far ciò dovrebbe essere pratica comune per garantire che il tuo portafoglio bitcoin sia privato come dovrebbe essere